E' bella a tutti ragazzi dal vostro pazzo simpatico siamo di nuovo qui su network speed the round ragazzi Per la seconda volta non vi ho portato minecraft ragazzi perchè non ho capito il motivo ma minecraft non vuole accedere a google Però non me l'hanno bloccato l'account ragazzi quindi per questo è dovuta saltare la live di minecraft Domani mattina ragazzi facciamo minecraft promesso ragazzi quindi andiamo avanti su sto gioco A breve dovrebbe arrivare anche Rita nella chiamata di discord quindi andiamo avanti con il gioco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non ci credo è assurdo ragazzi Grazie a tutti Nooo 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 poteva uscire bella ragazzi Nooo poteva uscire bella Non ci voleva ragazzi Non ci voleva ragazzi Quell'accappottamento ragazzi Non ci voleva ragazzi Nooo poteva uscire bella Nooo poteva uscire bella Nooo poteva uscire bella Nooo poteva uscire bella L'accappottamento ragazzi non ci voleva proprio per Nadas ragazzi Andiamo al quarto scenario Andiamo al quarto scenario ragazzi Andiamo al quarto scenario ragazzi e dobbiamo sbrigarci perché in pratica dobbiamo arrivare a 50 dobbiamo farcela raga e dobbiamo sbloccare tutto questo riquadro fino a giù ragazzi fino a New York e penso che arrivato a New York ragazzi sblocchiamo il mondo cioè possiamo giocare liberamente credo come tutti i Nade for Speed si gioca anche qui We're all. We're all. ...d'accordo... Grazie a tutti. 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 Cambiamo l'auto, subito. Subito la cambiamo. Ok, ragazzi. A te, sta frenando. Ok, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, ma è una cosa semplice lì. Io sono il lobby. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ti cacchio quando non dovete progetto con un 10,39 vengono ancora in movimento intenzione che ferma richiede un blocco stradale blocco in preparazione posso distruggere il televisore con un cazzotto gentilmente, ditemi solo sì la 16 e la 15.000 10,38 attenzione sta frenando 10,4 posizionamento unitato negativo in allestimento negativo in allestimento guarda qua guarda che buffone di merda la foglia è brutta negativo in allestimento ok, io non sono ok andate di rosa non posso muovere cominciò a buttare le cose all'arico in casa guardate se sentite da che rumore ragazzi sono io guarda qua ci ho buttato l'accendina verso il balcone ma ho buttato il pc verso il balcone se non mi fanno vincere perché non si può essere così coglioni non si può essere così anticapace ma soprattutto non si può essere così coglioni se sto gioco non è da finire la pinna 3 ore di caricamento all'inizio si può sfrutare che è brutta metto una manovra ora lo sistemo e sono ancora in movimento non lo vedo più cerco di ristabilire il contatto lo vedo di nuovo collice 3 collice 3 collice 3 ma se con il strumento ci sono quasi specie non si ferma richiede blocco esterodale ricevuto blocco in posizione negativo in allentimento collice 6 mi ha preso mi sta attiva blocco a stradale replicante continuo il strumento date nell'altro blocco a stradale ho qualche problema con la mia unità taglio l'avvicinamento e sono tipo della grande ragazzi movete il 2673 in fretta collizione posso continuare all'elta unità a tutto il piavato affermativo da senza codice 3 bersaglio in arrivo bersaglio in fuga alta velocità inseguitelo blocco non l'ha fermato inseguimento codice 3 una giardiva una buracca alla mia posizione forza salterete lì inseguimento ci siamo parli più buona pilota in arrivo è riuscito a passare a tutte le unità muoversi guarda è stato un disastro ma ce l'abbiamo fatto ragazzi difficilissima ragazzi ma su discord c'è qualcuno in lobby per caso no nessuno solo un attimo ragazzi grazie a tutti va bene se mi senti basso è il gioco mi dà mi lascio negli aspetti di me andiamo ragazzi siamo con la neve le rocciose quindi in pratica siamo in alte montagne autostrade, neve ecc tempo totale della corsa 55 ore e 23 minuti e 40 secondi ma in realtà non è così per adesso abbiamo fatto 210 di media con 1441 km e abbiamo riavviato per 20 volte ragazzi però c'è sta raga giocatori rimanenti 109 attento Jack, sta preghiacciando ok grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. , grazie a tutti. questo gioco. Allora, grazie a tutti. 1, guarda, guarda.